Buongiorno a tutti e bentrovati a questo settimo tutorial per vedere come compilare il modello di domanda per l'inserimento nelle gradatorie di terza fascia ATA, gradatorie di istituto terza fascia ATA per il triennio 24-27 e dunque sono gradatorie che andranno a essere valide per l'anno scolastico 24-25, per l'anno scolastico 2025-2026 e per l'anno scolastico 2026-2027. In questo tutorial vediamo come inserire il servizio prestato sia in istituzioni scolastiche nel medesimo profilo per cui si chiede l'accesso o anche nelle pubbliche amministrazioni quali enti locali, comuni, province, regioni ed enti locali in genere, si intende per ente locale pure per esempio la comunità montana. Andiamo a vedere come compilare il servizio. Dunque entrando sul modello di presentazione della domanda, una volta logato, una volta inseriti i profili per cui si richiede l'accesso, in questo esempio abbiamo inserito il profilo di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di collaboratore scolastico e di operatore scolastico. Andiamo a vedere, vedete qui, i titoli di servizio. Ecco, i titoli di servizio si dichiarano una volta e valgono come punteggio per tutti i profili di riferimento dichiarati per cui andando sull'azione disponibile alla voce titoli di servizio e facendo accedi si entrerà proprio in una pagina dove potrà essere possibile inserire e aggiungere i titoli di servizio. Vedete questo pulsante con aggiungi il titolo di servizio. Si clicca su questo aggiungi il titolo di servizio e si arriva direttamente nella pagina inserisci il servizio. Vediamo di inserire per esempio un servizio prestato nell'anno scolastico in corso 2023 23 barra 24 presso ecco qua c'è scritto l'istituzione presso il quale è stato prestato il servizio. Se è una scuola si mette l'istituzione scuola, se è un comune l'istituzione comune c'è il municipio di e si inserisce il nome della città e del comune e se è una regione regione per esempio Calabria, se è una provincia provincia Calabria, se è una comunità montana si mette il nome della comunità montana e così via. Facciamo l'esempio di una scuola istituzione liceo scientifico Leonardo da Vinci. Selezioniamo una provincia di riferimento per esempio quella di Reggio Calabria, inseriamo la provincia, inseriamo il comune di riferimento della scuola la città e Reggio Calabria dove sta il liceo scientifico Leonardo da Vinci. mettiamo l'indirizzo dell'istituzione via postidonea, mettiamo anche il numero civico 8 e qui dunque poi scendiamo al profilo di riferimento cioè del servizio. Se è stato fatto come ci sono tutti i profili di riferimento oppure se non trovate il profilo di riferimento e ciò è stato fatto in altro profilo scrivete altro profilo. Dunque per esempio se uno ha fatto il DSGA metterà altro profilo ad esempio. Se ha fatto il collaboratore scolastico metterà collaboratore scolastico e dirà se la tipologia del contratto per cui ha fatto questo servizio è un contratto di ruolo o non di ruolo. Mettiamo non di ruolo esempio. Poi andiamo sulla tipologia del servizio. La tipologia del servizio abbiamo visto che può essere ad esempio quella delle amministrazioni ma in questo caso statali o enti locali ma in questo caso saranno scuole statali. Poi c'è quella dei progetti promossi dalle regioni oppure delle scuole non statali, paritarie, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute o e convenzionate. Andiamo a scrivere in questo caso scuola statale dunque c'è un numeroso ventaglio di scelta di tipologia. Andiamo a dire che è stato svolto dall'1 settembre del 23 a per esempio il 15 aprile del 24. Ecco, il sistema calcola anche i giorni di servizio e poi ci sono due voci vedete che possono essere cliccate, cioè dovrebbero essere cliccate nel momento in cui c'è un'interruzione della retribuzione, i periodi in cui si è stati per esempio non retribuiti oppure l'assenza fatta dal servizio priva di retribuzione, un'aspettativa, un congedo non retribuito vanno aggiunti con questi tasti, altrimenti si fa inserisci e il servizio è regolarmente inserito con successo, vedete, viene subito riportato in questa sessione. Poi si può aggiungere per esempio un altro servizio, un altro servizio che per esempio è stato fatto l'anno prima e è stato svolto nella comunità montana di Paola, provincia di Cosenza e svolto a Paola indirizzo via Gari Baldi numero 54, profilo, ecco siccome in questo si può mettere anche altro profilo, se non c'è un profilo si inserisce altro profilo, non di ruolo. Tipologia del servizio vedete qui si può mettere enti locali dall'1 settembre 22 fino al 31 agosto 23 per un periodo pari chiaramente a 365 giorni. Anche qui si può fare raggiungere dei giorni senza retribuzione, si fa inserisci e il sistema raccoglie anche questo codice di profilo e questo servizio, chiaramente i servizi hanno valenza secondo la tabella allegata al decreto ministeriale che riapre le creatore di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 24-27. Speriamo che questo tutorial sull'inserimento dei vari titoli di servizio, servizio dunque che può essere riferito al medesimo profilo per cui si è già inserito in gradatore o ad altro profilo o servizi anche presso le amministrazioni statali, amministrazioni pubbliche statali o enti locali o servizio su progetti della regione, sia utile ai nostri telespettatori che potranno compilare con facilità la domanda, seguiteci ancora nei nostri canali social, facebook, youtube perché sull'argomento ci saranno dirette mirate alla compilazione della domanda, mirate alla comprensione del decreto ministeriale e risponderemo anche a tutte le vostre domande. Un saluto a tutti. Grazie. 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 Grazie.